Avete mai provato a guardare Olly e Benji da adulti? Le cose proprio... Guardiamo il primo episodio, guarda, guarda, guarda L'episodio comincia con Olly e la mamma che stanno facendo un trasloco per andare nella città di Fuchisawa Dove Olly andrà alla scuola nuova per giocare nella squadra del San Francis Dal primo minuto Olly già fa una cosa che veramente... Voi lo vedete, è scalzo, tira il pallone fuori la finestra Lui intanto si è allacciato alle scarpe Ricordate che lui è sceso con le scarpe allacciate Scende, il pallone ancora deve arrivare E lo stuppa Sì, vai! Intanto Olly scappa via dal trasloco e va in giro col pallone E facciamo la conoscenza del primo amico di Olly Cioè Bruce Harper Ehi, aspetta, dove credi di andare con quel pallone? Con quel pallone? Con quel pallone! Quale pallone? Non ha nessun pallone Qui Olly incontra il personaggio più inutile della serie C'è veramente un personaggio che se non ci fosse, proprio la serie non guadagna e non perde nulla Proprio inutile Ehi, cosa fai? Stai attento! Aiuto, aiuto al fuoco! Ma è impossibile affogare qui, l'acqua è troppo bassa Cosa? Hai ragione, non me ne ero accorto Come sei buffo! E tu come sei stronzo! Ehi Arthur, cosa è successo? Quel tipo lì mi ha tirato il pallone e mi ha fatto cadere in acqua Pallone hai detto Pallone hai detto È stato per colpa di quel dannato pallone che sono caduti in acqua Che te lo meriti, brutto idiota Ah, è così! Patti lancia via il pallone e Olly non solo lo stoppa, ma fa anche il buffone Scommetto che ti piace giocare a calcio No! Mi sono trasferito qui per diventare un bravo calciatore Appena Olly rivela che andrà alla St. Francis Ma allora anche voi andate alla scuola St. Francis Allento St. Francis Cosa ho detto di strano? Lo sai che noi andiamo a scuola alla Newpy No che non lo sa, stupida idiota Non t'ha mai visto in vita sua La St. Francis è nostra rivale Mi spiace molto, ma non potremo mai essere amici Qualche istante dopo arriviamo al campo di allenamento della città di Fuchisawa Dove la St. Francis si sta allenando E non vuole far allenare la Newpy Hai dimenticato il nostro accordo per l'uso di questo campo? La squadra vincitrice dell'ultima partita avrebbe avuto il diritto di usarlo Gli abbiamo battuto per 10 a 0 E adesso che cosa volete? Dai, via dalle palle, vai E qui Benji sfida i giocatori degli altri sport della scuola Newpy A fargli un gol Con qualsiasi tipo di palla Se riescono a fargli almeno un gol La St. Francis lascerà il campo alla Newpy Pallone gonfiato, adesso stai esagerando Forza ragazzi, passatemi la palla Ok? Primo tentativo, pallone da rugby Benji già a terra si rialza e lo devia L'ha parata L'ha parata Secondo tentativo Parato Terzo tentativo, un giocatore di baseball Con una pallina così Che ha l'opportunità di metterla in una porta enorme di 7 metri Benji non dovrebbe avere più di 12 anni Cioè in tutta la porta dove gliela vai a tirare Vai! Cioè gliela tira centrale Una porta di 7 metri gliela tira centrale Lui mette la mano Fraterno, così L'avete visto, no? Centrale Sei una merda Meritate di non avere il campo Qualche istante dopo Ollie chiede informazioni a Bruce Perché vuole sfidare anche lui Benji Bruce lo accompagna sulla collina Dove Ollie fa qualcosa di improponibile Tanto questo lo seguero Questo tipo qua lo scolo sta seguendo da dietro Chiede a Bruce dove abita Benji E praticamente c'è una villetta 5-6 chilometri avanti Scrive una frase di sfida sul pallone Tira il pallone Lo fa arrivare dritto tra le braccia di Benji Allora, se in tutta la serie Ollie sbaglia un tiro Cioè con questa precisione Tu dovresti tirare tutti i tiri nel set Tutti in parabola Sei in tutta la serie Fai un tiro Che pure che prendi il palo Benji quindi accetta la sfida Voglio fare un brindisi al futuro campione di calcio E al fatto che sono un maniaco che ti segue Vieni, andiamo al campo sportivo E continua a seguirlo Intanto Benji va in giro Sempre vestito da portiere Col cappelli guanti Cioè va in giro vestito coi guanti Da portiere Vanno in giro a cercare Ollie E guarda caso lo trovano in tutta la città E viene a sapere che è stato lui a sfidarlo Ovviamente Incredulo lo mette alla prova E gli spara un tiro Tipo a tre metri Lo spazio di una strada Attento Oliver Sè Ma guardate ora che fa Se ci provo 50 volte 40 volte non la prendo Le altre 10 volte spacco la portiera dell'auto Dopo questa scena veramente improbabile Finisce il primo episodio di Ollie e Benji Se ci avrò voglia Se il video vi è piaciuto Faremo anche le altre puntate Però io volevo concentrarmi proprio sulle Benji E fare varie puntate di Ollie e Benji Magari farle la prima se Non so Vediamo dove arriviamo Ok? Alla prossima